Matteo e David, l'8 ottobre parte il roadshow di BNP Paribas Investment Partners. Cosa vi aspettate? Quali sono i vostri obiettivi per questo roadshow? Ci aspettiamo moltissimo. Sarà un po' il punto culminante di un anno che è stato estremamente ricco per noi in termini di iniziative sul territorio italiano. Una campagna di rinancio di Parvest molto visibile. Quindi è un momento per noi cruciale per incontrare una volta ulteriore i promotori sul territorio in 12 tappe per tutto il mese di ottobre. In sostanza noi andremo a affrontare un tema che è già noto al mercato nel suo insieme ma proponendo anche alcune soluzioni per trovare degli sbocchi ad alcune situazioni di portafogli che possono essere in questo momento comuni per una buona parte degli investitori. Ovvero gli italiani sono molto esposti ancora agli strumenti obbligazionari, in particolare ai titoli di Stato. Quindi essendo arrivato probabilmente in questo strumento un pochino a fine corsa bisogna assolutamente pensare a come riposizionare i portafogli. Noi proporremo due soluzioni che saranno introdotte in precedenza da Marco Liera della U-Invest in quanto consulente nell'ambito della pianificazione finanziaria ben noto della comunità dei promotori finanziari. Lui ci darà il là per proporre appunto queste soluzioni che raccomandiamo e presentiamo al più. La prima soluzione è un comparto Parvest Diversified Dynamic, multi asset flessibile, che sta avendo ottime performance, se lo guardiamo contro il peer group, quindi contro le altre strategie che fanno questo tipo di lavoro. Ha una sua particolarità molto importante che è tra l'altro frutto del lavoro dei gestori di Benpeparim Investment Partner, quindi punta ad avere il miglior rendimento possibile, ma contenendo il rischio sempre al di sotto di un certo livello, che è il 7,5%. Quindi sapendo di avere a che fare con un cliente piuttosto avversa il rischio, questa componente è molto importante e essenziale. La seconda soluzione che proporremo è quella delle obbligazioni convertibili, che sono poco conosciute ma stanno emergendo nel panorama delle soluzioni che i promotori stanno considerando di adottare per gli loro clienti, in quanto strumento ibrido permettendo di cogliere le buone opportunità che si presentano sul mercato azionario, ma difendendo qualora questo stesso mercato azionario facesse un po' meno bene. Quindi è una buona soluzione se vuole per entrare in modo graduale sulla set class più rischiosa. e quindi parleremo infine all'interno di questo roccio della piattaforma Parvest, l'ecosistema che abbiamo lanciato all'inizio di questo anno. Ecco appunto, parliamo di Parvest, l'avete rivoluzionato di fatto all'inizio di quest'anno, come sta andando e quali sono le prospettive? Allora noi siamo molto felici di constatare che dopo 6-7 mesi di intensa comunicazione su stampa, su portali, ma anche sul territorio, come dicevo prima, andando ad incontrare i nostri clienti per spiegare che cos'è questa nuova proposta che noi rivolgiamo ai consulenti finanziari. Siamo molto contenti di vedere che abbiamo avuto un notevole incremento della nostra visibilità proprio su questa comunità dei promotori e dei consulenti che noi ci prefiggiamo di raggiungere. Quindi questo è un primo obiettivo importante e raggiunto già in questo 2014. Noi continuiamo ovviamente a raccontare cosa l'ecosistema o la piattaforma di Parvest consente di fare e ovviamente un insieme di prodotti che sono non più presentati per asset class come si faceva tradizionalmente, bensì per macro area di bisogno. Quindi avvicinandoci noi in quanto gestore al percorso che segue il promotore finanziario e il consulente con il suo cliente, partendo non tanto dalla tecnica o dalla set class ma dall'obiettivo che vuole raggiungere un cliente. Quindi abbiamo rivoluzionato il nostro sito in questo senso, abbiamo creato anche un'applicazione molto efficace e personalizzabile che consente di navigare molto bene all'interno di questa nuova piattaforma e quindi stiamo, come dicevo prima, avendo ottimi riscontri in quel senso. Ecco il 2014 ormai si sta esaurendo, possiamo dire così, che cosa vi aspettate per la fine di quest'anno? Abbiamo ancora davanti a noi tre mesi cui intendiamo proseguire con lo sforzo e l'intensità di attività commerciali sul campo, quindi è vero siamo avanti nell'anno però rimane ancora molto da fare per noi in questi tre mesi che abbiamo davanti. Continuiamo con le nostre attività sul territorio, la raccolta è positiva per noi ovviamente, sta traducendo il buon andamento dell'industria in generale ma sta anche traducendo della parte più importante che noi vogliamo sottolineare e vedere per già immaginare quali potranno essere il 2015, la buona accoglienza che il mercato sta riservando a questa nostra nuova proposta di valore, quindi sia in termini di prodotti che di servizi.